La maestra ci ha detto che è stato eletto come uno dei migliori borghi rurali al mondo, ma come fanno a farlo così buono? Sai che facciamo? Andiamo a visitare il loro prosciuttificio, che così ce lo facciamo spiegare. Fico! Prenota una visita guidata tra tutta, ma anche per gruppi numerosi, cassa l'unificio Zare. Puoi devostare i loro prodotti all'aria aperta, Zare, scopri come viene prodotto il prosciutto di Zare.